Un giorno in più per gli amanti della buona cucina e per chi avesse intenzione di trascorrere una serata in allegria condita da musica, balli. C'è anche il lunedì a disposizione per la decima edizione della Sagra della Sfogliatella, organizzata dall'Associazione Maria Santissima Adolorata di Santa Croce a Castel San Giorgio. Un giorno in più perché alcune famiglie venerdì sera hanno fatto marcia indietro dopo l'acquazzone pomeridiano, anche se la Sagra è andata avanti regolarmente. Al campo sportivo di Castel San Giorgio l'appuntamento è comunque da non perdere, oggi e domani, due serate ancora all'insegna dei gusti tipici del territorio e di prodotti squisitamente autoctoni. E allora via con i fusilli e melanzane, tocco diverso con le pennette rucola e speck, quindi le polpette di melanzane, i panini con salsiccia paesana, la caponata, la pasta e fagioli maritate, il vino locale e ovviamente la straordinaria sfogliatella degli artisti della pasticceria San Giorgio. Il solo odore, che in tv non si coglie, ai noi, fa venire l'acquolina in bocca. La decima edizione della Sagra della Sfogliatella però ha pensato a tutto, anche e soprattutto ai bambini. Ci sono infatti le giostrine e tanto spazio per divertirsi. E la finalità della Sagra è volta proprio ai più piccoli. Dopo aver aggiustato, anche grazie ai proventi della Sagra, la chiesa della Dolorata di Santa Croce, stavolta i fondi saranno utilizzati per completare la piazzetta di Santa Croce, così da regalare ai residenti un posto dove giocare e stare insieme il tutto nel ricordo dell'indimenticato Nicola Cataldo. Nella vicina Trivio, invece, si conclude questa sera l'appuntamento con Weekend in Allegria, organizzato dal Comitato Festa San Michele Arcangelo. Posti ancora disponibili per prenotare un tavolo e per seguire niente di meno swing band. Dunque il buon cibo con il tagliere dei prodotti locali, in particolare i salumi di Iomi, e poi fusilli con crema di provola e quelli con crema di peperoni e porcini preparati da un importante chef della zona. Gli organizzatori di Weekend in Allegria si sono posti l'obiettivo con questa manifestazione di raccogliere fondi che saranno impiegati per mettere su un cartellone di festeggiamenti straordinario il prossimo fine settembre in onore di San Michele Arcangelo.